Sesta parte della diciannovesima lezione per l'insegnamento di analisi matematica 1b. Vediamo adesso come è possibile raffinare il criterio del confronto semplice che abbiamo introdotto per i integrali generalizzati di funzioni non negative, andando non tanto a confrontare le funzioni integrande su tutto il dominio di integrazione, ma basta andare a fare un confronto di tipo asintotico nei punti in cui possiamo avere i problemi, cioè nei punti in cui le funzioni non sono limitate o l'intervallo non è limitato. Quindi adesso enunciamo il criterio del confronto asintotico per gli integrali generalizzati sotto forma di proposizioni, quindi cerchiamo di definire bene tutte le ipotesi, siano f e g due funzioni definite su un intervallo da a a b e b lo lasciamo aperto a valori reali, integrabili e su intervalli limitati. quindi ecco, tali che chiediamo le seguenti cose f e g sono integrabili secondo Riemann sull'intervallo quindi la forma da a a c per ogni c che sta in a b, escluso b ecco. poi chiediamo che f e g sono definitivamente positivi, maggiori strettamente di 0, quindi f di x e g di x sono definitivamente positivi per x che converge a b da sinistra, quindi questo significa che f di x e g di x sono entrambi strettamente maggiori di 0 in un intorno sinistro di b, cioè esiste un intorno per cui vale questa disuguaglianza, sinistro di b. la terza richiesta chiediamo che f di x, e questa è la cosa più importante, è assintoticamente equivalente a g di x per x che tende a b da meno. ecco, questa è la cosa importante che ci serve, l'equivalenza sintottica, e questo cosa significa? questo significa, ovvero, significa che se facciamo il limite per x che tende a b da meno del rapporto fra f di x e g di x otteniamo esattamente 1, quindi al tendere di x a b, f e g tendono ad avere comportamenti identici. ok, con queste ipotesi, allora, abbiamo che l'integrale da a a b di f, l'integrale generalizzato, e l'integrale da a a b di g sono due integrali generalizzati con lo stesso carattere di convergenza. hanno lo stesso carattere di convergenza. cosa intendiamo con questo? o sono entrambi integrali convergenti o sono entrambi integrali divergenti, quindi o convergono entrambi o divergono entrambi. la dimostrazione non è difficile, ci si riconduce al confronto semplice che abbiamo già introdotto. intanto osserviamo che l'equivalenza sintottica, dal limite che definisce l'equivalenza sintottica, abbiamo che il rapporto f di x fratto g di x si avvicina a 1, quindi sarà comunque, se scegliamo un intorno di 1 di raggio 1 mezzo, 1 più 1 mezzo fa 3 mezzi, 1 meno 1 mezzo fa 1 mezzo, abbiamo che questo rapporto si deve mantenere vicino a 1 almeno con un epsilon di 1 mezzo in un intorno sinistro di b, perché stiamo facendo il limite a sinistro. quindi abbiamo che questa cosa qui vale in un intorno sinistro di b. e quindi sia l'intervallo da c a b, un intorno in cui abbiamo quindi tutte le cose che abbiamo chiesto, in cui f e g sono strettamente positive e f fratto g è compreso fra 1 mezzo e 3 mezzi. e questo cosa significa? significa moltiplicando per g che 1 mezzo g è minore di f che a sua volta è minore di 3 mezzi g. e questo vale sull'intervallo da c a b. quindi questo ci dice che se andiamo a fare l'integrale da c a b generalizzato, avremo questa relazione, queste disuguaglianze, e quindi abbiamo che se l'integrale da c a b di f converge, allora questo è più grande di questo e questo 1 mezzo può anche uscire fuori. mettiamolo qua e questo 3 mezzi lo potevo portare davanti. ecco se l'integrale di f converge, allora anche l'integrale della g, un mezzo l'integrale della g sarà finito, quindi anche l'integrale della g dovrà essere finito, quindi anche l'integrale della g converge, segue da questa disuguaglianza qua. e analogamente se l'integrale da c a b di f diverge, allora 3 mezzi l'integrale della g deve essere più grande di qualcosa che è infinito, e allora anche l'integrale da c a b della g diverge e questo segue dalla seconda disuguaglianza. Ora qui ci stiamo occupando solo dell'integrale da c a b, ma gli integrali da a a c non hanno problemi di definizione perché per ipotesi f e g sono integrabili sugli intervalli che si fermano prima di b. L'integrale da a a c di f e integrale da a a b sono definiti da integrali di Riemann. Quindi qua il problema della convergenza non si pone e per ottenere l'integrale da a a b basta fare la somma delle due. È chiaro che se una porzione di questa somma è infinito anche la somma verrà infinito. E quindi ecco questo conclude un po' la dimostrazione. Quindi vedete dal confronto asintotico siamo passati al confronto semplice, ovviamente però non abbiamo più una relazione fra i valori degli integrali, cioè se entrambe convergono non è detto che convergano allo stesso valore, abbiamo solo dei confronti. Non sappiamo per esempio neanche chi è questo punto c, quindi non sappiamo neanche dire niente sui valori degli integrali completi. Questo risultato di confronto asintotico è un risultato molto potente perché ci permette di capire il carattere degli integrali semplicemente osservando il comportamento asintotico delle funzioni integrali. E per spesso per esempio è possibile ricondursi poi a comportamenti che sono di tipo campione, per esempio di tipo potenza, di tipo esponenziale, di tipo logaritmico, cioè ci riconduciamo a funzioni semplici su cui siamo in grado di fare i calcoli. Ecco, nel prossimo spezzone vedremo alcuni esempi di applicazione di questo criterio del confronto asintotico. Grazie a tutti.